Filippo Baroncini, alla tua prima crono mondiale, com'è andata? Secondo me è stata una buona crono, un'esperienza positiva per me. Sapevo di andare in guerra, di combattere con un po' i migliori al mondo, cioè, non un po', con i migliori al mondo, e direi che secondo me mi sono difeso bene, anche perché guardando un po' i vattaggi che ho fatto a fine cronometro sono un po' i migliori che ho fatto fino adesso, e meglio di così non potevo farlo perché era rimanere un po' sui dettagli, ma per quello c'è anche tempo. E adesso c'è la prova in linea? Esatto, c'è la prova in linea, sono forse un po' più fiducioso di quella, so di stare molto bene, ho colto un buon quarto posto alla Coppa Sabatini mezzo professionisti e sono fiducioso in croce dei dici. In bocca al lupo? Crepi!